NUMERI RELATIVI NUMERI RELATIVI Guardiamo insieme questa sequenza di numeri negativi e positivi. Se confrontiamo due numeri positivi è maggiore quello più lontano dallo zero. Se confrontiamo numeri negativi, è maggiore quello più vicino allo zero Il video si conclude qui Ciao! Se vuoi, guarda anche e se non l'hai ancora fatto, iscriviti! Grazie a tutti!